Io so benissimo, non dimentico, che siamo in campagna elettorale, almeno per alcuni giorni ancora, e mi guardo bene dal dire nulla, se no apriti cielo. Io so soltanto di avere vissuto troppe campagne elettorali nel corso dei decenni per non rendermi conto di quali logiche finiscano più o meno fatalmente per prevalere. Logiche di scontro più che di confronto, tali talvolta da impedire attenzione a problemi e anche a proposte. Abbiamo sentito rinnovare dal Presidente della Confindustria, Dottor Squinzi, un riferimento alle proposte che la sua organizzazione ha fatto. Altre proposte sono state da diverse organizzazioni sociali e anche rappresentative del mondo del lavoro prospettate. Se ne è tenuto conto come se ne può tener conto, forse sono un po' fatalista, in una accesa battaglia elettorale. L'importante è che, finita questa fase vitale per un sistema democratico come il nostro, se ne esca e se per caso si fosse annebbiata nel corso di queste settimane, si ristabilisca più presto piena consapevolezza dei problemi da affrontare. Questa è la cosa essenziale. Piena consapevolezza dei problemi da affrontare, piena consapevolezza delle proposte che sono in campo e, direi guardando a quello che qui voi rappresentate, insieme piena consapevolezza delle difficoltà e delle potenzialità che sono grandi e che ci danno fiducia nel futuro del nostro Paese.